E ben ritrovati in questo nuovissimo video di Yo-Kai Watch Puni Puni con i nuovi leaks, signori miei, nuovo evento che uscirà domani sabato alle ore 16. Allora partiamo subito perché ci sono tante cose da dire e sono rimasto molto deluso da questo evento perché la categoria si è bella ma inzoma, inzoma. Partiamo con il tipo di evento quindi il golf, torna signori imperterrito dopo 6 mesi più o meno sì, 7 mesi che non tornava dall'evento di Suzaku AAAZ. Quindi la gioia. Gli Yo-Kai però sono fighi, molto molto fighi. Abbiamo questo Kyuubi che vedete in copertina, che è un Kyuubi bagnato, come si ricordate, Renan Kyuubi, bellissimo. Abbiamo Professorso ZZ, Detective, bellino. Overnian, Cavaliere che avevamo già visto nel vecchio evento Gnartor, se vi ricordate, l'avevano già spoilerato. E poi Pierre, l'altra volta c'era Nathan come Cavaliere, ora c'è Pierre, quindi probabilmente metteranno Sandrone, Katie, no Katie di realtà è già uscita. Allora andiamo, 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 oltre a tutto il resto portiamo anche l'X di Sangho, vi ricordo il nostro canale television di Slamogolix. Trovate il link in descrizione. Partiamo subito con il Renan Kyuubi, ZZZZ, è figo, cioè per carità è figo, eh, con l'arco, guarda che bello con l'arco. Bellino, bellino, bellino. Carino, peccato che non sia così tanto utile come i Yo-Kai. Energy Max Hall Popper che fa più danno ogni volta che lo utilizzi e la passiva, i suoi puni partono già ingranditi. Si trova nella slot Kai e come bonus nell'evento, infligge più danni contro la slingshot di Pierre, quindi contro il golf alla fine. E infligge più danni contro lo stage di T-Saramandra Z, sì, perché c'è anche un impossible stage contro T-Saramandra. Andiamo avanti, Overnian ZZ Audace, che è piccolo, guarda qua che, è Pucci, è super Pucci il ragazzo di Yo-Kai. Si trova nella slot, lui lo voglio assolutamente, lo voglio troppo pullare, scoppia tutti i puni e ne ingrandisce quattro. Questo è interessante, vi dico perché. Perché c'è un unico Yo-Kai che, da quello che ho capito, ha lo stesso tipo di Energy Max che però è esclusivo Gnambo, ovvero Amaterasu ZZ Gnambo. Questo potrebbe far comodo in molte situazioni, essendo anche audace come tribù. Il Kyuubi era misterioso, se non l'avete visto, eccolo qua. Poi, quindi evidentemente può essere utile in alcune occasioni, bonus infligge più danno contro la slingshot di Pierre, quindi contro il punito, contro il golf. Pierre ZZ oscuro, facciamolo vedere, oddio, sembra molto enzoma, enzoma, carino, carino. Energy Max, All Popper più cura, passiva, a volte riduce il danno, inflitto, più unione tribù oscura. Perché Pierre ha una seconda passiva che poi vedremo come si sblocca. Quindi è un Kirin, Z, Crystal Show, Gugnan e Triple S che però in realtà è doppio Z più oscuro. Questo qua è utile, è utile più che altro per la passiva. La Max Ro sicuramente perché è utile per la passiva. Posizione ricompesa per aver potuto 10 livelli dalla slingshot, bonus, aumenta i punti. Poi ci abbiamo Professor ZZ, carino anche lui, carino, carino. Energy Max, Booster d'attacco più inflador. Signori, io quanto rosicavo per il fatto che Noah era l'unico ZZ Booster del gioco. Eccolo qui, ci hanno messo Professor Orso, finalmente. Passiva, i puni degli altri yokai appariscono. Che cazzo vuol dire appariscono, lol, per favore, l'italiano appaiono più frequentemente. Posizione slot Kai, bonus infige più danno contro la slingshot di Pierre. Quindi abbiamo un sacco di bonus contro la slingshot di Pierre. E molto probabilmente questo sarà di metà evento, Professor Orso. Quindi, tanta roba. Poi abbiamo Raylux Z. Oddio, carino, eh? Nel senso, Energy Max Pop è più che la sfere bonus. Passiva si carica quando si usa l'energia di Energy Max. Posizione slot Kai, infige più danno contro la slingshot di Nonnofame SS. Aumenta e riduce i danni contro lo stagio di Tessalamandra, ok. Poi Pioggianna, visto che c'è Raylux e c'è anche Pioggianna. Un altro Z. Energy Max crea sfere che fanno danno. Insomma, proprio... Si sono sprecati. I suoi puni possono cadere più grandi. Interessante. Fiege più danno contro la slingshot di Nonnofame. Aumenta i luci danni contro seggite Saramandra. Ed eccoci qua, Trisalamandra. Trisalamandra si può ottenere tramite il suo stage. Eccola qua. Energy Max Booster d'attacco. Passiva a far cadere più sfere bonus. Questo è interessante. Sembra un Dandori. Un Dandori però, comunque, tribù. Credo oscura, perché il Tessalamandra è oscura. Posizione di coppia si avrebbe avuto dal suo stage. Bonus nessuno. Non ha nessun bonus. È inutile a casa. Prendetela però. Felicio. E Nonnofame. Non li facciamo neanche vedere perché sono inutili. Questi sono i due item che sbloccano le seconde passive. Uno sarà dato, come vedete, quello verde a Pierre. E quello nero, credo a Overgnan. Credo a Overgnan. Vediamo un po'. Overgnan. Uno va dato a Pierre. E l'altro va dato a Overgnan. Sì. Redrop più risuscita. Ok. Quindi uno sarà dato a Pierre e uno sarà dato a Overgnan. Questo, invece, è lo stage di Trisalamandra. Che ha 125.000 HP. 1130 di danno. Attacca ogni 4 secondi. E il contraccolpo è di 1208. Basta batterlo una volta, come vedete qui, per riscattare la ricompensa e quindi avere Trisalamandra. Queste sono le restrizioni audaci, misteriosi, splendidi e generosi. Quindi interessante, interessante. Alla fine l'evento finisce qua perché non è nulla di che. È un evento molto shallow. Saremo in leve ovviamente domani, credo, sì. Orario ancora da stabilire, però. Appena finito questo video verrà programmata subito la live. Iscrivetevi al like e a campanellina. Noi ci vediamo ad un prossimo video e domani in live.